6 giugno 2024, dietro questa pianta marina, questa pianta grassa marina, guardate che bella, ma dove sono? Tra poco ve lo dico, tra poco ve lo dico, guardate l'incanto di questo borgo alla riviera Ligure, ma che paese sono? Guardate che bello, ma guardate all'intorno e poi vi faccio vedere che stanno facendo i bagni oggi, il 6 giugno, sono giù a prendere il sole, ma guardate che stupendo questo paese. Tra poco vi dico il nome, ma ve l'avete già capito, là in fondo, in fondo, in fondo, dopo Recco, c'è Camogli. Io sono sceso alla fermata oggi dopo Genova Nervi, iscrivetevi nel commento, che paese sono, bellissimo, la prima volta che sto esplorando questa riviera di Levante, si può dire, tutti i più singoli borghi, è un percorso duraturo, che dura un mese, ma anche di più nel capire e nascondere le bellezze che ci sono nella riviera Ligure. Io mi piacerebbe avere una finestra vista mare, ma ecco qua, da questa barca, vi suggerisco il nome del paese dove sono. Eccolo lì ben scritto, dalla bacheca, dell'insegna di questa parte di mare, dove sono io. E' una barca senza remi, dove può andare, può fermarsi solo qua e fare una bellezza con i fiori appropriati. Ma devo dire che sono a Bogliasco, Bogliasco, bellissimo questo punto di vista panoramica, che sono qui adesso. In questo momento ad ammirare la spiaggia, la piccola spiaggia che c'è, ma è suggestiva nell'esserci. Intanto seguo una correlazione nei commentisti. A Bogliasco, Bogliasco, vi saluto. Una barca senza remi è come un amore, come un uomo senza amore, che non può viaggiare nella sua vita. Come io, viandante youtubeista, che non so manifestare la propria gioia, se non avessi il canale youtube, per dirlo a tutti, che io sono felice del mio girovagare. Aldo, aldo, a Bogliasco. Dopo Genova Nervi, ora vado su, prendo il treno comodissimo e ritorno a Genova, poi stasera nella mia città, Milano, Milano.